Qui a questo appuntamento statutario del cantiere, questa assemblea congressuale, incontriamo Andrea Bernaudo, ex consigliere regionale e responsabile del soccorso azzurro partite IVA nel PDL, se non sbaglio. No, ho sbagliato? Il PDL non esiste più, Forza Italia. Forza Italia, chiedo scusa. Allora, come mai intanto qui, e intanto c'è un cartello che è molto chiarificatore di un certo messaggio, come mai a questa assemblea del cantiere per dire cosa? Ogni occasione è buona per portare avanti le proprie idee e l'associazione cantiere è sicuramente meritoria, cioè fanno politica per bene, gente seria, danno possibilità di poter riflettere e pensare sull'attualità. Noi stiamo portando avanti una battaglia che è quella di liberare il lavoro autonomo, le partite IVA, dal cappio dello Stato che gli stringe il collo, che gli soffoca. Noi siamo convinti che in questo paese ci sia stata una deformazione culturale che vede chi lavora e chi produce come un nemico da parte dello Stato, un presunto evasore, una persona da ostacolare nel suo cammino. Poi andiamo a registrare i dati, sono proprio le partite IVA, i piccoli microimprenditori, quelli che sono i maggiori sostenitori dell'Inps, sono ovviamente i maggiori contribuenti. E quindi credo che tutto questo astio nei confronti di chi produce in un momento come questo vada eliminato, ma ha ragioni storiche questo tipo di atteggiamento nei confronti dei lavoratori autonomi, perché sono normalmente persone libere, che non sono condizionabili, che non hanno rappresentanti politici, non hanno il tempo di rivolgersi o di formare un sindacato, perché sono talmente adoperati a creare impresa, a creare lavoro, a creare reddito per sé, per i propri collaboratori, per questo paese che hanno poco tempo per organizzarsi in un gruppo politico o di crearsi una forma di sindacato e così via. Noi lungi da voler fare sindacato, anche perché i sindacati in questo paese non hanno ormai da qualche anno portato soluzioni, ma hanno semmai peggiorato e aggravato la situazione nella quale ci troviamo. Noi riteniamo che il paese abbia bisogno di una riforma del lavoro autonomo e di qui il cartello a cui facevi riferimento, cioè Je suis partita IVA perseguitati in Italia. Lo rifaccio vedere a beneficio delle vostre telecamere perché verrebbe da sorridere, no? Però in realtà qualcuno mi ha detto tu che fai giochi con la strage di Charlie Hebdo? No. In Italia sono morte anche quest'anno una settantina di persone, in totale silenzio dei mezzi di informazione. Sono quelli che fanno impresa, quelle che si alzano la mattina e vanno a alzare la sala cinesca del proprio negozio o che aprono il proprio studio professionale. Si sono suicidati, sono morti di Stato, diciamo così. Magari molti erano stati raggiunti da accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. Non hanno resistito al colpo, hanno preferito il cappio. Io credo che tutto ciò vada riformato. Teniamo conto che la battaglia primaria che noi stiamo portando avanti e di questo abbiamo fatto anche una proposta di legge che io personalmente ho portato al mio partito, cioè a Forza Italia, che adesso è all'esame d'ufficio legislativo del Senato, è l'abolizione dell'istituto del Solvet Repete. Noi non vogliamo più che il fisco possa mettere le mani in tasca al contribuente se non dopo, qualora il contribuente decida di ricorrere al giudice tributario, che appunto un giudice si sia espresso in primo grado. Abbiamo analizzato il contenzioso tributario, abbiamo visto che nel 55% dei casi, questa è la media nella quale si colloca il contribuente e le sue ragioni, cioè nel 55% dei casi ha ragione il contribuente e non il fisco, quindi riteniamo fuori dallo Stato di diritto incostituzionale, come peraltro lo ha già detto la consulta nel 1961, che ancora oggi lo Stato, rifacendosi a una norma risalenta allo Statuto Albertino, di prepotenza, metta comunque le mani in tasca al contribuente, magari alla luce di prove induttive che non sono proprie di uno Stato liberale, di uno Stato di diritto. Ecco, tutto questo deriva appunto da quella deformazione culturale che vede chi produce e chi lavora come un nemico da certa sinistra, un po' snob, diciamo così, che ha preso il potere molto spesso in Italia, anche nei gangli importanti della cultura, ma anche della giustizia, e ha fatto di chi produce e di chi lavora un presunto evasore. Prima si parlava di brianzoli, dando e raffigurando i piccoli imprenditori, i microimprenditori come degli esseri quasi inferiori, da spremere o comunque dei nemici di certa politica. Ecco, noi riteniamo che su questo il paese d'Italia debba fare una riflessione, perché poi questi stessi sono quelli che danno lavoro ai figli di moltissimi elettori, di moltissimi cittadini. Quindi una riforma del processo tributario, una riforma della vision di questo paese. Abbiamo visto recentemente Renzi sulle partite IVA dei giovani, sui minimi, tutto il dibattito, lui cosa ha fatto? Lui ha portato l'imposizione fiscale dal 5 al 15%. Poi si è reso conto di aver fatto un enorme errore, per non scendere in un termine più volgare, e adesso il rivoluzionario Renzi cosa fa? Coadiuvato dai Pasdarande, la rivoluzione liberale dell'NCD, dicono no, 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 ci siamo sbagliati, ci siamo sbagliati, adesso torniamo indietro e ripristiniamo la situazione che c'era prima. Se la rivoluzione in Italia oggi è fare delle cavolate e poi perdere tempo per riportarla come era prima, siamo messi molto male. Qui c'è da rifondare questo paese, c'è da rilanciare l'economia, e questo lo si può fare soltanto diminuendo drasticamente l'imposizione fiscale, ma anche ristabilendo un nuovo equilibrio fra lo Stato e il cittadino, un equilibrio virtuoso fra contribuente e fisco. Grazie Andrea Bernardo. Grazie a voi.